Ciao a tutti amanti del gossip. Qui su Super Gossip ti portiamo le storie più succulente dal mondo delle celebrità. Preparati a rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo. Possibile primo grande colpo di scena a uomini e donne. Ida Platano è una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi e l'anno scorso ha anche avuto un'esperienza infruttuosa come tronista. Ora manca poco alla prima registrazione del programma ed ecco spuntare l'indiscrezione secondo la quale lei non sarà nello studio. Una notizia che sconvolgerebbe il pubblico di uomini e donne che non vedeva l'ora di assistere al ritorno di Ida Platano. Ma ora ecco uscire fuori questa notizia che lascia tutti a bocca aperta. Andiamo a vedere insieme perché in tanti sono convinti che non ritornerà nel parterre nemmeno come dama della trasmissione di Canale 5. Tutta la discussione del pubblico di uomini e donne è sorta quando Ida Platano ha deciso di postare un Instagram story nella giornata del 28 agosto. Proprio in questa data inizieranno le registrazioni della nuova stagione 2024-225 e lei ha compiuto un gesto che sta facendo tremare milioni di telespettatori che temono di non rivederla più nel piccolo schermo. Ida ha postato una sua immagine sui social mentre è a letto e indossa un pigiama, il che fa presupporre che resterà a casa. Dunque potrebbe non prendere parte alla registrazione di uomini e donne. Questa è ovviamente un'ipotesi di alcuni utenti e non c'è certezza. Potrebbe anche presentarsi in un'altra puntata e aver saltato semplicemente la prima. Non resta che attendere eventuali annunci della stessa Ida Platano che non ha scritto alcuna didascalia a corredo della foto postata. Spero che questo video ti sia piaciuto. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui gossip più freschi. Ci vediamo nel prossimo video.